Io ho letto a fine partita che avevamo preso un gol contropiede e mi veniva da ridere perché ho avuto anche la sfortuna ma anche la fortuna di vederla dall'altro e noi abbiamo preso un gol che siamo in superiorità numerica. Se voi contate i giocatori del Ciosena sono praticamente in undici dentro l'area di rigore, compreso Berti che parte quasi dalla bandierina. Lì c'è un errore di David che è legger primo contrasto, Bois, e Aziosmanovic sul secondo ma noi dietro abbiamo ancora un ulteriore uomo che è Rillo che era l'ultimo ma l'errore nasce anche dalla pigrizia di Malotti che in quel caso vedeva e aveva come responsabilità quella del limitatore. dell'area mentre ha commesso l'errore di guardare come si evolveva il calcio d'angolo piuttosto di avere un pensiero negativo e di andare ad assorbire quel movimento di Berti che era facilmente leggibile. Quindi abbiamo commesso lì c'è un concorso di colpe ma la squadra era in netta superiorità numerica. Era tutto forché una squadra allo sbago. È chiaro che penso sia sotto gli occhi di tutti che la squadra meritasse qualche punto in più. Io ne menziono perlomeno 4-5 più che il pareggio di Modena dove chiaramente lo valuto come un risultato estremamente positivo. poi potevamo anche vincere sì però avevamo al cospetto una squadra estremamente importante. Io i rimpianti più grandi per come ho visto giocare la squadra sono col Gubbio, sono con la Bispesaro e anche la sconfitta con Limolese che poi anche l'inferiorità numerica nel secondo tempo l'avevamo messa lì. Quindi io penso che perlomeno 4 punti in più chiaramente farebbero vedere il cammino della squadra in maniera molto molto positiva. Noi negli ultimi 20 metri molto spesso vogliamo entrare dentro con scambi stretti quando invece ci sono soluzioni molto più efficaci e molto più semplici. e quello dipendono molto dai movimenti senza palla dei giocatori più lontani al pallone. Chiaramente Trasciane e Cheremateng hanno una microfattura al piede che è in via di risoluzione però ancora hanno bisogno di giorni. Purtroppo quelle sono cose lunghe quindi Trasciane e Cheremateng sicuramente non ci saranno. Cucurullo sicuramente out, Fiorani non ha niente di particolare però visto quello che è successo a Cucurullo ci prendiamo tutta la precauzione possibile quindi venerdì rifarà un'ulteriore ecografia per vedere però se non è pronto per questa sicuramente sarà della prossima settimana. Arrigoni stesso discorso, anche lui è un affaticamento non è niente di che però non possiamo correre il rischio di perdere Andrea perché insomma è un giocatore pesante per noi e quindi lo valutiamo a fine settimana. Quello molto probabilmente sarà presente Rosso e Birligea dobbiamo aspettare ancora qualche giorno però io penso che siano Rosso e Birligea quelli più facilmente recuperati.